L'undicesima edizione che deve ancora finire, quindi aspettiamo domani sera per tirare le conclusioni, mi sembra che stia andando tutto quanto bene, il flusso di pubblico è molto positivo, probabilmente maggiore rispetto all'anno scorso, anche grazie al tempo. L'undicesima edizione ha come caratteristica l'Ungheria come ospite d'onore, quindi il confronto tra la cultura ludica ungherese, tradizionale della terra magiara, che si confronta con le regioni italiane, quindi similitudini e differenze tra giochi tradizionali. Grazie a tutti.